C'è qualche cosa in voi, Lucchesi, che non mi convince. Me ne farò una ragione. Vedete, il mio lavoro consiste nel trovare le prove per sostenere un'accusa. Se non fosse così, tanti poveri innocenti finirebbero in carcere. E purtroppo, tanti assassini restano a piede libero. Ma questa è la legge. E non sarò certo io a calpestarla, visto che proprio io sono chiamato a difenderla. Molto bene, ho capito. Ma non finisce qui. Informerò il prefetto di tutto questo. Però, non vi avevo mai visto così. Non fate... Ho sbagliato a lasciarmi andare. No. Invece avete fatto bene. Però, Pietro, se posso permettermi... C'è qualcosa che dovrei sapere. Il Duda... E' un assassino. Io lo so. E sia ancora libero perché in tutti questi anni non sono mai riuscito a trovare le prove per incastrarlo. Di cosa state parlando? Sedetevi. E ora che anche voi sappiate... E ora che anche la quale si può far sapere. Ed è un attenzione... Ma questa è un attenzione... E ora... Io lo so. E laura che a qualcuno... Ma questa è un attenzione... Ma questa è un attenzione...